Ora spieghiamo una tecnica di sottomissione che si chiama omoplata. Dalla posizione di guardia chiusa vado ad afferrare il suo polso sinistro, ok? Nello stesso tempo vado a spingere col mio braccio sul suo collo. Infilo, appoggio il mio piede sinistro sul bacino suo, ok? Da questa posizione porto il suo polso verso dietro, spingo e giro. Appena arrivo qui, la prima cosa che devo fare è cambiare la presa del suo polso, prenderla con l'altra mano e immediatamente, prima che lui fa una capione in avanti o che si alza in piedi o che mi salta sopra, sono tre modi suoi per scappare, o alzarsi in piedi o fare una capione in avanti o saltare da questa parte qua. Io prima che lui fa questo, quindi cambio, vado a bloccare il suo polso con l'altra mano, mi siedo e vado ad agganciarlo qui, da questa posizione, con le gambe, giro, tengo sempre il suo polso, giro, vado ora con questa mano, lascio il suo polso che è bloccato dal mio corpo, con questa mano vado a chiudere la presa, chiudo la presa, spingo forte con la gamba sulla sua spalla sinistra e vado a fare pressione, ok? Da questa posizione qua, chiudo la presa delle mie mani, vado a fare pressione con il mio corpo e con la mia gamba sulla sua spalla sinistra.